Buongiorno siamo a Roma con Emma Bonino, Emma grazie davvero di essere con noi, un momento un po' faticoso diciamo così, per oggi parliamo di eutanasia, del progetto di eutanasia legale, la proposta di legge e di iniziativa Polvalare per far sì che la politica dia una risposta, come sta rispondendo? Innanzitutto per ora ha risposto ignorandolo, come quasi tutti i temi relativi ai diritti civili da qualche anno a questa parte, l'unica riforma che è passata è quella del divorzio breve, se pensiamo del divorzio del 74 magari finalmente persino dopo non so 40 anni, 50 anni è venuto in mente che bisognava meglio aggiornare un attimo la situazione, ma in realtà io preferisco chiamarlo il diritto di vivere liberi e vivere contempla anche la parte della morte, lo sappiamo tutti, qualcuno particolarmente pessimista diceva la vita è un lungo cammino verso la morte, nel frattempo ci sono molte cose che si possono fare, alcune penose, altre invece bellissime, quindi non è un viaggio solo, è un viaggio che può avere mille dirambazioni, che dipende molto anche da noi come vogliamo usare questo viaggio, insomma. Per me e che pure rispetto chiunque scelga abbia altre scelte, anzi credo che chi sceglie altro debba essere anche sostenuto, aiutato, in realtà viene abbandonato sostanzialmente, intubato e poi abbandonato come se, mentre invece esistono possibilità tecnologiche che consentono di esprimersi, di parlare col computer, quindi li rispetto moltissimo chi fa altre scelte per ragioni personali, magari anche di fede, ma altrettanto credo debba essere rispettata la volontà e la scelta di chi la pensa diversamente. E per me scegliere di non voler essere intubata, scegliere quando è venuto il momento in cui dico, mi dico e quindi dico, sento, percepisco che non vivo più, che in qualche modo non è più, come dire, vita quello che magari mi capiterà, non lo so, comunque la possibilità di dire basta. Quindi per me in realtà fa parte della libertà in responsabilità che secondo me è il principio che deve governare tutto questo nostro lungo viaggio e il viaggio di chiunque insomma su questa terra. Per cui lo vivo penso come la libertà nella responsabilità di una parte della vita, posto che la vita contempla anche questo passaggio. Quanto è anche importante forse far sì che sicuramente la politica risponda, ma anche che ci sia un po' di educazione sociale ad argomenti del genere, perché sono sempre lasciati sussurrati negli auspici, in fondo l'eutanasia c'è sempre stata negli ospedali, infatti la parola legale è proprio questo, cioè il fatto di parlarne. Innanzitutto bisogna dirlo che in ospedale c'è sempre stata, è come l'aborto clandestino che c'è sempre stata e fa parte di quella mentalità anche giornalistica in qualche modo culturale nel nostro paese, della classe politica in generale non ne parliamo, che insomma si fa ma non si dice, che ha connotato e connota tutta la grande parte, perlomeno relativa ai diritti civili, magari anche in altre materie diciamo, ma il si fa ma non si dice è stata quasi sempre un imprinting molto molto forte, oltre la cultura del dolore per esempio, altro paradigma, proprio un tabù, ricordo che con Veronesi quando era ministro, poi quando era senatore, l'idea di far passare l'idea della terapia del dolore eccetera, quanto ce l'è voluto, perché c'è questa cultura che ovviamente si partorisce con dolore, quindi si deve abortire sotto tortura, non so quale altra, mentre anche i miei medici pure in questa circostanza mi hanno detto e ripetuto che il dolore può servire all'inizio i sintomi per localizzare una specifica malattia e poi è del tutto inutile quando non controproducente, perché il dolore ti assorbe talmente tante energie, talmente tanta concentrazione, esattamente per combattere il dolore, che non ti restano più altre energie per vivere, per fare altro, per pensare ad altro, ti succhia tutto quello che hai per poter combattere questo inutile passaggio e l'eutanasia del si fa ma non si dice, si sa perfettamente come si fa in ospedale, tant'è che appunto l'abbiamo voluto chiamare eutanasia legale, perché legalizzare un fenomeno è sempre meglio che proibirlo, anche perché normalmente la proibizione semplicemente non funziona, ma questa è stata sempre la linea radicale da sempre, legalizzare e quindi contro l'aborto clandestino, l'aborto appunto legale, contro l'eutanasia clandestina che pur esiste, l'eutanasia legale e avanti di questo passo. Però certamente di fronte ti trovi sempre, media sicuramente, ma la classe politica in generale, che proprio sui diritti civili la storia radicale lo dimostra, va sempre tirata per i capelli, va sempre spinta, è come se fossero parti secondarie della politica con la P maiuscola, mentre alla fine non occuparsene, significa veramente imporre alla gente, ai cittadini e alle cittadine italiane, delle vicende penose e senza senso. Pensate per esempio alla fecondazione assistita, famosa legge 40, risultato, a parte che l'associazione Coscioni praticamente l'ha distrutta, sono ormai cinque sentenze della Corte Costituzionale, di incostituzionalità della legge, quindi chi l'ha votata può averla votata in un momento di smarrimento, perché una legge con cinque vizi di costituzionalità forse non dà il senso granché dell'equilibrio dei nostri legislatori, diciamo, doveva essere un momento particolarmente di smarrimento, diciamo così. Il risultato è che come già sull'aborto clandestino ha dato origine al turismo sanitario, che è un aggravio di pena, di ansia psicologicamente parlando, ma lo è anche dal punto di vista finanziario, per esempio. Cioè un aggravio, una tassa sostanzialmente, aggiuntiva, senza senso, veramente di persecuzione dei cittadini e delle cittadini italiane, che non si capisce per quale buttiglio, sull'eutanasia per decentemente tocca andare in Svizzera o non so dove, o Belgio, anche lì un'altra tassa psicologica e finanziaria aggiuntiva, perché da noi no? E tu chiedi perché no? La la risposta infatti su quella proposta di iniziativa popolare è che finora semplicemente non si è riuscita manco a calendarizzarla, che è un altro bel modo di prendere in giro i cittadini, perché la Costituzione prevede sia il referendum, già ampiamente traditi tutti quanti, sia le leggi di iniziativa popolare. Poi è pure vero che il regolamento della Camera del Senato non dà termini tassativi, ma rimane il fatto che è più di un anno, che decine di migliaia di cittadini hanno firmato una proposta di legge di iniziativa popolare, firme legali, per fare qualche distinzione seria tra chi sa raccogliere le firme e chi le raccoglie per finita, diciamo. E non si riesce a calendarizzarla. E questo è il punto che rende tutto difficile e so che Marco Cappato ed altri hanno deciso un'iniziativa di disobbedienza civile, cioè hanno detto pubblicamente che aiuteranno tutti coloro che a loro si rivolgeranno. E mi sembra di essere tornata indietro alla disobbedienza civile esattamente degli anni 70 contro l'aborto clandestino. Un circolo che si riforma. Perché è così, rispetto ai nuovi diritti, diciamo alle nuove sensibilità, ai nuovi bisogni, c'è la stessa sordità, a mio avviso, cinica sostanzialmente, perché questo non interferisce certamente sulle priorità dell'economia, anzi semmai allevia qualche famiglia di tasse, come ho appena spiegato, in debite, diciamo, e aggiuntive per cattiveria sostanzialmente. Però non si riesce ad attirare l'attenzione su questo. Un proprio policlinico Gemelli, che tra l'altro è un policlinico, un ospedale ad una cazione cattolica, abbia firmato un documento in cui i pazienti malati di SLA hanno la possibilità di irrevocare o di non chiedere la ventilazione assistita. Ecco, forse queste anche sono in qualche modo le aperture che fanno capire quanto c'è bisogno di una legge. Quanto ce n'è bisogno? C'è, basta guardare un pochino più attentamente, anche tutta la parte, soprattutto dei medici molto più sensibili e in prima persona anche su questa ed altre campagne. Ma è come se ci fosse una sordità della politica, peraltro da destra a sinistra e qui non è che si fanno grandi differenze nella sostanza. E quindi ci si ritrova sempre come dagli anni 70, che per spingere questo paese ad affrontare certi temi bisogna avere una persistenza e una costanza, prova di bomba e passare sotto questo tunnel che è quello del silenzio. Perché la verità è che di queste cose non si vuole discutere. costringendo anche i medici poi in qualche maniera a strade alternative. Io non ricordo un ballarosi su questi temi, pure di contenitori del cosiddetto dibattito politico, credo ce ne siano tutte le sere a bizzeffe, peraltro sempre con gli stessi partecipanti, manco forse una compagnia di giro che si sposta da uno studio all'altro. ma non ricordo recentemente nessuno di questi grandi contenitori dedicato, come dire, a questi temi. Sono vere e proprie angherie, senza senso, inutili, penose, pesanti e che non hanno nessuna motivazione, diciamo, logica, se non che sono temi... Quando ero ragazza li chiamavamo diritti civili. Adesso sono temi, credo si dica, eticamente sensibili, che poi, solo per dire quanto siano difficili da affrontare, quando invece moltissimi altri paesi europei li hanno affrontati con più serietà e più coraggio. Bene, la ringraziamo davvero moltissimo. Grazie mille. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.